o no ciao a tutti ragazzi io sono virgins the game tonight e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo di nuovo su un appuntamento di dalla z che visto il periodo un po particolare di banlist inizio del mese e poi successivamente intervento agli occhi diciamo che ho avuto un po di difficoltà nel realizzarlo però stiamo tornando stiamo tornando a pieno regime e quindi arriva questa serie torno a questa serie poi tornerà anche il libro di magia dei segreti devo far tornare 50 special ora che è uscita la banlist ci si può ripensare devo far tornare il giornale piano piano con molta calma finché non mi riprendo completamente però quindi un attimo di attesa ma detto questo direi che possiamo tranquillamente cominciare l'ultimo mazzo che abbiamo visto l'ultima volta era exodia quindi oggi partiamo da letteralmente quello che penso sia l'ultimo mazzo della e che sarebbe exorcister ah no c'è anche ice restrict che sarebbe praticamente abbandono va bene ok exorcister primo mazzo del giorno wow bello 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 isosorella allora parliamo di un mazzo x is praticamente appena uscito isosorella questo bel mazzettino qua che si basa sul evocare il più possibile le x is che sono letteralmente delle versioni guerriere tra virgolette delle carte mostro per esempio abbiamo esosorella sofia sofia come si chiama lei che diventa asofiel gibryn se non sbaglio è elis poi abbiamo no michaelis dovrebbe essere elis caspitel non ricordo ragazzi veramente non ricordo caspitel è probabile che sia stella non me lo ricordo comunque sono delle versioni x is dei mostri di main deck vabbè in ogni caso mazzo interessante mazzo che è successo il quale mi sono già espresso abbastanza per quale motivo perché è uscita la tier list dove ho parlato appunto di exorcister parlare di exorcister anche all'epoca quando venne presentato nel video di metormim ho parlato del supporto nuovo di exorcister nello di giornale ho parlato di exorcister anche quando è uscito il set perché ho presentato il set appunto sono andato a parlare di exorcister e anche nell'apertura ho detto qualcosa è un mazzo che artisticamente sostanzialmente mi piace tantissimo è veramente bello a livello competitivo al momento non dice niente è purtroppo un for fun però mi sento cioè for fun bar a rogue però secondo me è più for fun in realtà l'ho messo rogue nella tier list semplicemente perché penso che verrà giocato abbastanza perché sono waifu e quindi verrà giocato abbastanza forse verrà anche testato abbastanza però secondo me non sarà abbastanza per farlo risultare come rogue alla fine della fiera quindi io direi che secondo me il mazzo è molto bello il mazzo artisticamente è qualcosa di sensazionale però dal punto di vista della competitività lascia molto a desiderare io il mazzo sto provando a tirarmelo su non ve lo nascondo però onestamente non mi ci sto impegnando più di tanto perché ci sono ancora queste due Sofia e Michaelis che valicchiano qualcosina ancora quindi sto aspettando che scendano di prezzo perché so che il mazzo non farà il result e quindi parliamo di un mazzo che nonostante mi piaccia tantissimo artisticamente comunque al momento non ce l'ho comprito ma comunque ma comunque secondo me artisticamente è un mazzo da 9 cioè io lo trovo veramente bellissimo dal punto di vista dello stile di gioco mi piace molto la meccanica Xyz e anche come funziona questo mazzo quindi bon io direi che tranquillamente un 7 glielo posso dare dal punto di vista della competitività qua devo andare semplicemente sul futuro di questo mazzo e secondo me in futuro questo mazzo non dirà chissà che cosa almeno finché non usciranno i nuovi supporti quindi parliamo di un 2 al momento competitivamente parlando per il resto ragazzi se volete sapere qualcosa in più di questo mazzo ne ho parlato nei video dedicati successivamente dopo Exorcist abbiamo Eyes Restrict non ho idea di come andarlo a cercare in tutta onestà Eyes Restrict perché Eyes Restrict è tecnicamente mille occhi dovrebbe essere quello l'archetipo però limite dei sì ok è scritto con i numeri quindi andiamo per numeri mille occhi e quindi è questo qui l'archetipo però ci sono un sacco di carte tutte diverse quindi a questo punto io vado a farvi vedere semplicemente non l'abbandono più ma l'abbandono con la fusione abbandono che è veramente molto bella allora 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 per chi segue il canale da quando aveva 40 iscritti 20 iscritti di meno forse non me lo ricordo si ricorderà del fatto che io avevo questo abbandono è un mazzo basato sull'abbandono che in realtà vorrei pensare di rifarmelo perché è un mazzo cioè è un mostro quello dell'abbandono che mi piace veramente tanto e come for fun è veramente divertente ma detto questo comunque allora abbandono parliamo di questo bellissimo mostro e di questo bellissimo mazzo di Pegasus sostanzialmente è un mazzo che si basa sul evocare questi mostri che poi prendono il controllo dei mossi del tuo avversario e si riequipaggiano piuttosto e guadagnano l'attacco e la loro difesa e inoltre hanno delle protezioni che gli vengono dati da questi mostri che vengono equipaggiati dal tuo avversario quindi per esempio nel caso dell'abbandono come vedete qua a parte che può essere evocato tramite rito illusione nera ma se lui ha un mostro equipaggiato ovviamente massimo uno ne può avere e una volta per turno tuo può equipaggiarsi un mostro contro il tuo avversario l'attacco e la difesa di questa carta diventano l'attacco e la difesa originali del mostro equipaggiato inoltre se quella carta se l'abbandono se per essere distrutto in battaglia invece distruggi il mostro che è equipaggiato che è una protezione interessante però con un rege che ha 3 con un buco 1 a 3 con lightning storm a 3 diciamo che non è proprio il massimo ecco mettiamola così diciamo che ovviamente l'ottica del mazzo è going second violentissimo che deve otticapare ci deve provare almeno o almeno togliere le risorse all'avversario però comunque il mazzo fa quello che vuole fare in maniera molto mediocre ecco mettiamola così inoltre vabbè l'abbandono ha anche un effetto molto simpatico che ci permette di far subire danno burn praticamente al nostro avversario perché se subiamo danno alla battaglia che convolgono questa carta infliggiamo il danno pari quindi noi prendiamo danno e poi il nostro avversario prende lo stesso danno noi al nostro avversario abbiamo gli stessi life points se noi con quell'attacco muoriamo non andiamo a pareggiare non andiamo a vincere ma andiamo a perdere perché il danno lo subiamo prima noi e poi il nostro avversario quindi dato che lo subiamo prima noi abbiamo perso quindi ok limite di 1000 occhi è molto interessante perché non permette agli altri mossi di attaccare però pure lui è facilmente aggirabile ecco mettiamola così ecco gli altri mossi sul terreno non possono cambiare posizione o attaccare che era interessante nel GOAT adesso non più limite di 10.000 occhi è praticamente un anti-HT è una carta molto valida al momento da evocare di Instant Fusion però nulla di eccezionale comunque parliamo di un mazzo che ha avuto pochi supporti gira sì ma abbastanza male in realtà quindi bon cioè alla fine il mazzo è molto divertente è molto bello l'abbandono è fantastico come mostro io tuttora lo adoro come mazzo e come mostro in generale sia 10.000 che 1000 che abbandono sono bellissimi secondo me però purtroppo non dice nulla e non dirà mai nulla per quanto riguarda il gioco competitivo almeno ha una strategia un po' troppo limitante ecco mettiamola così detto questo comunque a livello di design a livello di artwork gli devo dare un tranquillissimo 8 a me piace tantissimo dal punto di vista del gioco oppure lì 8 lo giocavo appunto perché mi piaceva tantissimo come funzionava poi vabbè non è che giocavo il mazzo basato su di lui giocavo lui in un mistone quindi un po' eh dal punto di vista della competitività gli posso dare un 4 per quale motivo? perché il limite dei mille occhi è stato giocatissimo in GOT perché si faceva capri spiatorio e poi metamorfosi in 2 restrict quindi era ok come cosa era molto forte come giocata per il resto però nessun'altra carta a parte i 10.000 occhi ha visto gioco 10.000 occhi ha visto gioco in thunder dragon come protezione da ht o cose del genere ht che tra l'altro si scartano perché il limite dei 10.000 occhi si equipaggia a rubare al cimitero in effetto rapido quindi se una carta una ht si scarta di costo al cimitero allora lui se l'equipaggia nega l'effetto sostanzialmente quindi è ok e vabbè quindi niente dal punto di vista della competitività gli do 4 semplicemente per questo motivo di mille occhi che è stato giocatissimo in GOT adesso dopo abbandono dobbiamo andare su gli altri mazzi della F a questo giro e parliamo di FA FA è un mazzo che è sempre stato molto interessante secondo me è un mazzo basato sulle macchinine non mi ricordo FA per cosa stia di cosa è l'acronimo però è sostanzialmente basato sulla formula 1 praticamente su insomma gare del genere mettiamola così è un mazzo interessante è un mazzo che sicuramente ha i suoi fan assolutamente come UA appunto ed è un mazzo che però fino ad ora non ha detto nulla di che l'unica carta fino ad ora che è stata competitiva di questo mazzo perché c'è stata una carta soltanto che si è giocata tra l'altro in pendulum nemmeno ha visto competitività grazie al suo mazzo no si è giocata in pendulum è Don Dragster Drone Dragster è questo bellissimo mostro qua che perde due livelli nega punto ok Dragster è forte il resto del mazzo è mediocre parliamo di un mazzo comunque che ha bisogno di supporti perché al momento non riesce veramente a reggere purtroppo però comunque è un mazzo che secondo me è abbastanza interessante perché la loro strategia di fare questi sincro che poi guadagnano attacco pari al loro livello perdono il livello guadagnano il livello fanno modulazione di livelli è molto carina come cosa hanno avuto anche il loro mostro link però non è abbastanza assolutamente secondo me il mazzo merita dei supporti anche perché è sicuramente molto amato so che molta gente lo adora quindi ci sta tra l'altro è bellissima sta cosa che hanno tutti i zero d'attacco perché devono guadagnare attacco in base al loro livello che una volta però il punto è che tu fai perdere l'attacco ai tuoi mostri per fare delle cose e quindi piano piano poi cioè fai perdere i livelli ai tuoi mostri o modifichi i livelli per fare delle cose quindi è ok cioè sì ma anche no mettiamola così comunque in generale è un mazzo veramente secondo me interessante che se venisse supportato anche magari con altri tuner perché vedere soltanto pilota automatico come tuner non è proprio il massimo ecco mettiamola così è abbastanza interessante secondo me in futuro se nel caso venga supportato decentemente potrebbe anche essere un rugo carino ma detto questo al momento devo parlare del mazzo com'è ora e ora il mazzo è uno sbocco dal punto di vista competitivo dal punto di vista degli artwork carini sono macchinine quindi bon 5 secondo me dal punto di vista dello stile di gioco gli do un non mi fa impazzire troppo quindi un 4 per non esagerare dal punto di vista della competitività un 3 semplicemente perché drugster è stato giocato in pendroom ed è stato nelle meccaniche competitive per un po' di tempo quindi semplicemente per don drugster spero che in futuro supportino questo mazzo perché è veramente interessante dopo fa abbiamo favoloso abbiamo fabled fabled e fabled vabbè favoloso favoloso è un mazzo interessante perché è un mazzo demone luce che si rifà a una strategia di gioco abbastanza interessante sincro e per quanto vi stia dicendo meccanica fusione mi piace la meccanica xyz mi piace la meccanica link mi piace la meccanica sincro è sicuramente la mia preferita e quindi io non posso assolutamente permettermi di parlare male di favoloso anche perché è un mazzo molto interessante secondo me perché ha diverse carte che sono tranquillamente viabili al giorno d'oggi però il suo problema è che è troppo lento al momento c'è cherburel che si utilizza in tribrigade bird up per andare a rievocare l'aldino della luce d'arco mi pare che le carte che si usano in generale siano finite qua corvo corvo ovviamente penso sia una delle carte anzi la carta più famosa di questo mazzo almeno io prima di entrare nel gioco veramente conoscevo soltanto lui di fabled quindi penso che sia il mazzo più conosciuto ma in generale comunque parliamo di un mazzo che secondo me è abbastanza interessante che ha avuto supporti di recente però pure qui non sono abbastanza rimane comunque un for fun sarebbe bello però vedere favoloso come rogue almeno in un futuro nel quale Konami decida di dare dei supporti rotti per rendere il mazzo decente quando i mazzi sono troppo vecchi hanno bisogno di supporti rotti per renderli almeno vagamente rogue che sarebbe una bella cosa un attimo livellare tutti i mazzi sullo stesso livello quindi dare dei supporti rotti a vulcanico l'autore bestia favoloso tutta quella roba là per renderli almeno minimamente paragonabili ai mazzi top tier perché si si devono fare comunque sulle carte vecchie però devi dare dei supporti che vanno a supportare quelle carte vecchie che gli permettono però di salire anche di tier sarebbe bello l'abolizione del for fun e rendere un po' tutto rogue però purtroppo Konami no detto questo comunque mazzo interessante mazzo veramente carino boh cioè ok mi ricorda molto dark lord dal punto di vista dei disegni per alcuni mostri in realtà ovviamente non per il castoro ecco mettiamola così quindi dal punto di vista dei disegni gli do un 7 molto molto bello dal punto di vista dello stile di gioco mazzo sincro meno di 7 non glielo do dal punto di vista della competitività non ho mai visto competitività mi pare forse per poco tempo vabbè due ragazzi perché al momento non è nulla di che in passato non è stato nulla di che poi ultimo mazzo della giornata abbiamo firequist è qui è qui è qui è qui è qui parliamo di un mazzo veramente bellissimo allora parliamo di un mazzo guerriero bestia di livello 4 cioè tutti livello 4 livello 3 insomma tutti i sarciabili ratenki a parte qualcuno mi pare di livello 5 7 e robe del genere è un mazzo principalmente basato sugli xyz ma anche qualche sincro questo qua per un periodo si è utilizzato in salamagna addirittura che è un po' come cosa però si è utilizzato in salamagna ed è un mazzo molto interessante ovviamente ha fatto da engine ha fatto da mazzo competitivo ha fatto da tutto e purtroppo tutto ora tenki è limitata il che va a dare abbastanza fastidio a questo mazzo ma va bene va bene così detto questo comunque il mazzo è molto bello molto interessante si basa su questi spiriti che questi guerrieri con questi spiriti che ovviamente sui quali si rifanno i nomi e gli artwork che sono veramente interessanti cioè sono veramente belli secondo me tutti tutti molto molto belli forse cari vu è quello che mi piace un po' di meno avevo diverse carte in passato di questo mazzo in generale più o meno tutte comuni o rare poi l'ho conosciuto meglio quando sono entrato effettivamente nel gioco e ho conosciuto il mostro più bello dell'archetipo che secondo me è assolutamente tiger king lui è lui è spettacolare ragazzi lui è veramente bellissimo anche pavone peacock molto bella l'adoro veramente e vabbè però in generale il mazzo è veramente molto bello parliamo di questo mazzo che comunque è stato competitivo nell'arco del 2013 2014 insomma mi ricordo che a settembre 2013 tipo venne un attimino depotenziato perché era meta vabbè che quella banlist di settembre 2013 fu tremenda paragonabile a gennaio 2020 però comunque era un mazzo che era contender quindi ci sta il fatto che sia stato hittato in quel periodo mazzo interessante mazzo che ha fatto la sua storia e secondo me continua tranquillamente a farla c'è qualcuno nella mia zona che lo gioca ancora e che lo ha giocato post supporti e poi ovviamente il tempo è passato per questo mazzo e si nota però parliamo di un mazzo che comunque ha delle carte che si giocano un po' ovunque cioè Tenky è limitata fa parte di questo archetipo è per forza una carta che devo considerare nella somma del voto per la competitività nonostante si utilizzi in mazzi anche Guerrero Bestia che non siano Firefist vabbè in ogni caso dal punto di vista degli artwork bellissimi può corra dire 8 dal punto di vista del stile di gioco bello ok ci sta 7 dal punto di vista della competitività qua è difficile perché il mazzo ha avuto alti e bassi però ha avuto anche tante carte che sono state competitive il mazzo però dopo un periodo di tempo è calato irrimediabilmente quindi gli do un 5 dal punto di vista competitivo perché purtroppo dopo il 2013 ha detto veramente poco però spero che in futuro si possa riprendere detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e porca troia stiamo a 23 minuti di registrazione spero che questo video non venga più di 15 detto questo noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video e scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di tutti i mazzi che abbiamo menzionato oggi ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.